smutati 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 per favore per favore ciao ci stiamo supplicando ci sei ci sei ciao ti volevo dire un paio di cose allora io ho deciso di giocare con te perché comunque stavo prima guardando la tua live perché comunque spesso mi piace andare in altri canali a guardare live anche magari dei canali più piccoli cioè la gente che magari ti dava del nabbo e tu rispondevi a me non mi frega nulla ecco io voglio soltanto dirti una cosa continua quello che stai facendo se è una cosa che ti piace non mollare mai fregatene di quello che ti dicono le persone perché soltanto tu sai realmente quanto vale quindi mi raccomando cioè ora io comunque adesso vado ho il tempo di fare una partita che ora mi riposo un attimo che devo andare in live però mi ha fatto veramente tanto piacere giocare con te e se ti ho detto solo alla fine mi smuto solo se vinciamo semplicemente l'ho detto per spronarti un po' infatti avete giocato tutti benissimo ragazzi mi raccomando impegnatevi e nulla vi voglio un mondo di bene ragazzi buona live ci becchiamo ciao nico ciao persi ciao